il sana è arrivato alla sua trentesima edizione e non vediamo l'ora di festeggiare tutti quanti insieme tra le tante iniziative c'è blogger for sana ovvero il premio che noi blogger ufficiali attribuiremo ai prodotti più innovativi iscritti a sana novità quindi cosa dovete fare prima di tutto seguire sana nei suoi canali ufficiali e poi seguire me sui miei canali social nei quali racconterò della mia sana experience per la categoria alimentazione biologica vi aspetto dal 7 al 10 settembre a bologna fiere ciao